Siamo con Grande, Allocca e Cassese del Footwolf Grego che ha appena abbassato per 4 a 1 il Real Corso. Cassese è l'autore di una doppietta, ma è stata una battita facile all'inizio, dura alla fine. Sì, un'infortunità felice perché quando cade un giocatore attivo con la testa e si fa male si ferma sempre, non ha fermato, l'hanno segnato. Ma tutto sei il portiere. Poi sei il portiere ancora di più, poi il Zambella non ci ha avuto dare il gol abbastanza ridicolo, vabbè non fa niente. Come fai a play eh il Zambella? Abbiamo fatto 4 a 1 e siamo riusciti a vincere sempre sul campo. Allora c'è la nuova partita che giochi bene insieme a Cassese. Mi doveva abituare, sapevo che Cassese è un ottimo attaccante, è un fenomeno. Non pensavo fosse così forte, lo conoscevo da tempi del possibile, dovevano fare attenzione. Non ci faceva l'attaccante. Gamba di legno però fa sempre gol. Dove lo metti lo metti, fa sempre gol. L'importante è una vincere. Ripeto, il Zambella è un uomo a fare play, il Zambella è un uomo a vincere. Ciao mamma. Aspe, Aspe, Elek all'unice. Vogliamo zero, lo dici? Vogliamo? Sarà una donazione all'unice. 10 euro. Non saccio, sogna male. Manda il numero. 4, 3, 3, 5, 6, 6. Una buona iniziativa, abbiamo donato tutti quanti? Come donato? Sono donazioni... Ma quanti euro? 15 abbiamo donato. Siamo con De Maio, Sport Drago, un gran gol oggi. Purtroppo non ci avete fatta la vittoria, però un pareggio buono, considerando che eravate inferiore da numerico. Sì, ma pure considerando i risultati vecchi, noi abbiamo vinto una partita, penso che è andata bene oggi dai. Non l'ho detto per il gol, è andata bene. Qualcosa a dire all'arbitraggio oppure... C'è una cosa che succedono e poi finisce tutto il gol. Quindi voglio dire una cosa un attimo per la... Diciamo! E poi volo! Pistone venduto! Pistone venduto! Stiamo dicendo una cosa seria. Pistone venduto! Continua, non vale. Grazie. Comunque, la campagna Unicef vogliamo zero. Ricordiamo il numero 45505 se potete donare 2 euro. Spieghiamo cosa è questo vogliamo zero. Se no la gente dice, ma diamo un messaggio 2 euro ma vogliamo zero. Allora, partiamo dal presupposto che non lo so. Ma penso che è una cosa importante e se c'è la possibilità lo facciamo tutti. Va bene, grazie. Contributo. Grazie. Grazie.